Il sabato l'associazione La Famiglia organizza un bel incontro, di che cosa si tratta? L'incontro è dedicato ad adolescenti, ragazzi, bambini e altro e la tematica oggetto è i problemi di ansia. Diciamo che è una problematica molto sentita di questi tempi, abbiamo raccolto sia all'interno del consultorio ma anche poi in letteratura si legge che è un problema crescente quello dei ritmi che i bambini e i ragazzi sono chiamati a sostenere nella vita quotidiana, a scuola e in tutte le loro attività. E questo stimolo fortissimo verso il tenere un ritmo forte in ogni cosa porta a crescere l'aspettativa dei genitori, delle persone che stanno intorno, verso i risultati dei ragazzi. E questo quindi cosa porta come conseguenza ultima a grosse ansie, ansie e preoccupazioni dei ragazzi di non essere all'altezza di quelle che sono le aspettative dei propri familiari, dei genitori e in generale di tutte le persone che conoscono. Una professionista di alto livello parlerà di questo tema, di che si tratta? La dottoressa Iaselli quindi si occupa di questo, per adesso abbiamo organizzato un incontro spot per cominciare a suscitare l'attenzione su questa tematica e per cominciare a ragionare insieme. Poi valuteremo anche l'esito di quello che è il riscontro che otteniamo se magari procedere con ulteriori iniziative. Questo naturalmente si colloca nell'ambito dell'attività più ampia del consultorio che oltre a organizzare eventi culturali come questo offre anche assistenza a chi nel caso concreto ne abbia bisogno. Quindi diciamo l'organizzare un evento di questo tipo è anche un messaggio che se qualcuno ha i propri figli, familiari o altro che sentono di avere problemi di questo tipo può rivolgersi con fiducia al consultorio dove sempre gratuitamente dei professionisti volontari offrono il loro servizio a chi lo richiede. Dove e a che ora questo evento e soprattutto è aperto a tutti? L'evento è aperto assolutamente a tutti, sabato 21 aprile alle ore 17, Palazzo Massà, secondo piano in via Cadona 24 vicino ai Giardini. Siete tutti benvenuti.